Ciao, buongiorno a tutti, io mi chiamo Fernando Bianchini, vengo dal Molise, sono arrivato qui la prima volta tre anni fa con gravi problemi nella bocca, quindi orientativamente nel digerire, in tanti fattori negativi. La decisione di venire qui è stata perché ho avuto conferma sui social di come era la clinica e mi sono avventurato in questa avventura che è stata bellissima, il mio modo di vivere è cambiato totalmente, porterò sempre grande ringraziamento a Palmas che mi ha dato la possibilità di venire qua innanzitutto, ma anche a tutti i ragazzi e le ragazze che lavorano qui, che se le è creato un rapporto bellissimo con i medici, con gli infermieri e con tutti gli accompagnatori, quelli che ci stanno accanto, che ci fanno stare bene, veramente bravi, bravi, bravi e consiglio a tutti di fare questo passo perché la vita cambia radicalmente, il modo di vivere cambia radicalmente, bene, bene, bene nel mangiare, nel sorridere, non avere più dolore, non avere più il pensiero fisso di correre dal dentista perché c'è un problema, ne risolvi uno e te ne esce un altro, non si vive così, no, bisogna essere sereni e la serenità dipende anche dalla salute.